ciao amici benvenuti in questo nuovo video io sono alessio oggi ti voglio parlare dell'ultimo accessorio che gopro ha introdotto nel suo catalogo un prodotto un accessorio che ha lanciato un po in sordina effettivamente non è stata fatta una grande pubblicità dietro e forse uno di quegli accessori che nessuno si aspettava e nessuno magari immaginava di vedere potrà essere utile non potrà essere utile lo vedremo adesso ma si tratta di questo prodotto qui gopro volta si tratta di un accessorio decisamente non economico perché si parte da un prezzo base di 130 euro per poi poterlo acquistare a 90 euro se iscritto al gopro plus quindi usufruendo degli sconti riservati oggi con questo video come al solito io ti voglio dare il mio punto di vista il mio parere per cercare anche di capire se può fare al tuo caso se può essere sensato l'acquisto di un prodotto di questo tipo insomma capiremo come sempre le caratteristiche i vantaggi svantaggi che ti può dare un accessorio come gopro volta però prima di iniziare come sempre ti chiedo di sostenere il mio progetto e puoi farlo in un modo molto semplice iscrivendoti al canale e mettendo un clic sulla campanella per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni se invece vuoi anche qualcosa di più esiste il club attraverso il club iscrivendoti accedendo a questa area privata diciamo in modo di accedere ai miei video in anticipo e soprattutto senza interruzioni pubblicitarie ma adesso è venuto il momento di vedere un pochino come si comporta questo accessorio gopro volta mettiti comodo comoda che iniziamo questo nuovo accessorio integra cinque funzionalità in una la prima è il fatto che si tratta di un supporto per gopro da tenere in mano con la possibilità di orientare in orizzontale in verticale la cam la seconda funzionalità forse la più importante la più interessante il fatto che integra un power bank che sommato alla batteria inclusa nella gopro triplica la durata delle riprese questa qui è forse la parte più interessante ma l'approfondiremo dopo un'altra caratteristica molto molto utile il fatto che integra un treppiede nel suo supporto che ti permette quindi di utilizzarla appunto per fare dei time laps delle riprese posizionando la cam in qualsiasi posto praticamente e anche di questo te ne parlerò dopo perché è stata studiata molto molto bene altra cosa ancora interessante da questo punto di vista il fatto che integra un telecomando bluetooth direttamente nel supporto e quindi con un dito puoi comandare la cam cambiare le funzionalità vedere lo stato della batteria del power bank cambiare la modalità di ripresa insomma puoi comandare la camera ma puoi anche comandarla a distanza infatti puoi anche togliere la gopro dal suo supporto posizionarla dove vuoi il comando è bluetooth quindi puoi comandarla farla partire e tutto il resto qui hai anche delle iconcine che ti fanno capire in che modalità ti trovi quindi non c'è il rischio di sbagliare altra cosa molto utile e finale diciamo tutta una serie di accessoristiche degli addon che sono presenti in questo supporto che sono un attacco aggiuntivo per i supporti gopro quindi oltre a quello della gopro ce n'è un altro che ti permette di agganciarlo in vari zaini vari attacchi particolari per sfruttare appunto power bank qui dentro abbiamo il laccetto e abbiamo anche un attacco da un quarto di pollice quello tradizionale dei tre piedi che può tornare utile in tante tante casistiche comprese queste caratteristiche di impatto di base però so che ti stai chiedendo se alla fine però da lato pratico è utile ed è quello che voglio trasmetterti con questo video verso la fine farò anche un'analisi per quanto riguarda il prezzo per cercare di capire se questi 130 euro prezzo pieno 90 euro se hai gopro plus hanno senso se oppure con altri accessori gopro magari dal costo inferiore alla fine grosso modo fai le stesse cose ma ne parleremo verso la fine di questo video dal punto di vista costruttivo onestamente mi ha fatto subito una buona impressione certo prevale la plastica quello in dubbio però una plastica molto più solida rispetto a quella che magari percepiamo prendendo in mano un 3 way sempre di gopro poi non ci sono solo elementi in plastica ma ad esempio l'attacco per la gopro quello aggiuntivo è il metallo molto interessante questa cosa e sulle gambe dei tre piedi hanno inserito le calamite che sono di una utilità incredibile perché quando vai a chiudere le gambe ecco che si attaccano al supporto e non si mollano più molto comodo te ne accorgi quando non ce l'hai perché quando butti ad esempio dentro lo zaino nel marsupio questo 3 way non hai mai il rischio che le gambe si aprono si incastrino insomma è pensato e costruito molto bene secondo me all'interno della confezione trovi il gopro volta il supporto trovi un cavetto usb c per ricaricare il power bank trovi una vite per serrare la gopro attaccarla qui al supporto trovi la fettuccina per metterla sul polso e non perdere il gopro volta ma trovi anche un accessorio che nemmeno sui video ufficiali nelle indicazioni caratteristiche nel sito del produttore si capisce bene se c'è ed è questo sportellino che puoi sostituire alla gopro hero 9 e 10 è uno sportellino che ti permette di collegarci l'alimentatore del power bank in modo ermetico in modo tale che tu possa andare utilizzare poi la gopro senza media mood in modo assolutamente sicuro in condizioni atmosferiche avverse attenzione però non è totalmente impermeabile ovvero non puoi andare sott'acqua con questo kit ma rimane il fatto che questo sportellino che è venduto anche a parte come accessorio nel sito della gopro e non costa poco viene dato in dotazione ti permette di avere praticamente una sigillatura ermetica totale puoi anche mettere all'esterno sotto la pioggia la gopro e gopro volta per fare ad esempio dei time lapse molto lunghi gopro volta viene venduto a un prezzo di listino di 130 euro oppure 90 euro se sei iscritto a gopro plus quindi puoi usufruire degli sconti si tratta di un prezzo alto basso esagerato giusto sicuramente non è un prezzo basso però prima di tirare le tue conclusioni io aspetterei di vedere la fine di questo video perché ci sono delle valutazioni da fare delle cose che bisogna capire prima di tirare le somme finali infatti io di supporti gopro di accessori ne ho veramente tanti sono tutti attaccati qui dietro sulla mia parete ad esempio oltre way 2.0 o il bastone grande o il bastone allungabile quello per la gopro max che integra anche il treppiede ma sono tutti accessori che hanno sempre una qualche mancanza hanno un qualcosa che è presente nell'altro accessorio e quando li utilizzo magari ne scelgo uno e dopo mi rendo conto che mi manca la caratteristica che c'è nell'accessorio che ho lasciato a casa ma ovviamente non posso portarli via tutti quanti altrimenti mi occupano troppo troppo spazio questa soluzione invece nonostante abbia anche dei compromessi mi sembra quella più equilibrata adesso andrò a parlarti delle cose che mi sono piaciute di quelle che mi sono piaciute un po meno del gopro volta subito ti anticipo che non ho fatto degli stress test o delle prove tecniche l'ho utilizzato tutti i giorni nelle mie uscite e quindi mi sono fatto un'idea dal punto di vista pratico se può essere un accessorio utile iniziamo appunto col vedere le cose che mi sono piaciute di più gopro volta primo impatto si è comportato veramente molto bene per poterlo utilizzare bisogna aggiornare il firmware della gopro hero 9 o 10 all'ultima versione firmware disponibile in modo da avere nel menu della cam c'è la possibilità di fare l'abbinamento con questo accessorio l'abbinamento è immediato veloce e ti permette in questo modo di poter comandare la cam sia con il cavetto di alimentazione collegato ma anche senza cavetto quindi anche comandare la cam a distanza l'abbinamento ti permette anche di gestire l'aggiornamento del firmware del gopro volta mi è capitato nella prima accensione dove la cam mi chiedeva di aggiornare anche il firmware della gopro volta aveva già scaricato la cam e con il cavetto collegato da fare l'aggiornamento ho riscontrato solo in alcuni casi una non rapidità nell'accensione della cam da spenta ma penso non sia un bug quanto una mia eccessiva richiesta del sistema di una rapidità che non ci può essere quindi dovevo solo lasciare il tempo di partire questo accessorio a mio parere ti dà un grande grande vantaggio che è l'autonomia quasi triplicata come ti dicevo con il power bank integrato e il cavetto collegato alla cam e veramente ti permette di sfruttare al massimo finalmente le possibilità di questa cam se non ti serve per action puoi utilizzarla magari per fare dei timelapse e hai già un power bank integrato impermeabile che puoi lasciare anche fuori sotto la pioggia insomma è un accessorio che va a potenziare decisamente le possibilità creative date dalla gopro per portare un esempio ho fatto un timelapse di quasi due ore utilizzando la gopro hero 10 collegata power bank in 4k video intervallo due secondi e mi sono trovato alla fine di questo periodo quando stoppato ancora due tacche di batteria su cinque praticamente ad occhio circa un 40 per cento di autonomia era ancora disponibile aspetta di autonomia del power bank però la batteria della gopro era ancora al cento per cento perché funziona in questo modo quando è collegata al gopro volta la gopro va prima a consumare la batteria del power bank e quando ha terminato la batteria del power bank va a utilizzare quella integrata all'interno della gopro quindi alla fine è veramente un'autonomia elevata e poi devo anche considerare che non ero partito con una carica del cento per cento ma avevo caricata un paio di giorni prima avevo fatto anche qualche piccola ripresa così abbraccio potrei dire che avevo circa un 80 90 per cento nominale di batteria disponibile nel power bank sicuramente promossa l'autonomia perché ti permette di fare delle riprese molto molto lunghe ci sono a mio parere anche altri vantaggi che ti dà questo gopro volta il primo il fatto è più banale che il power bank ha un attacco usbc e quindi puoi alimentare aumentare l'autonomia anche di altri accessori che hanno lo stesso attacco ad esempio come smartphone o tablet il supporto aggiuntivo che hanno integrato qui attacco gopro in metallo ti permette di utilizzarlo con altri supporti o pinze e sfruttare power bank per aumentare l'autonomia della gopro e fare delle riprese più lunghe altra cosa che mi è piaciuta molto e forse è una delle parti più efficienti è il treppiede adesso tu mi dirai ok ma il treppiede di questo tipo esiste anche nel 3way 2.0 che costa anche meno io ce l'ho e ti dico che ha un grosso difetto con l'accessorio il fatto che quando tu alzi un pochino l'asta del 3way 2.0 ci metti la gopro il peso maggiore sulla parte superiore e quindi lo rende molto instabile nonostante abbia le gambe basta veramente un po di vento o lo posizioni in una superficie non perfettamente dritta è molto facile che cada da solo bene questo sistema del gopro volta invece è molto più efficiente perché ha questa gamba la terza gamba che è il power bank che la parte più pesante di tutto l'accessorio e quindi lo rende molto molto stabile ha il peso maggiore sulla parte inferiore del treppiede la puoi veramente posizionare su superfici un po instabili ci può essere anche del vento e non c'è mai il rischio che questa qui cada ci sono ovviamente dei compromessi di uno te ne ho già parlato il fatto che non è telescopico quindi non puoi allungarlo questa è la sua altezza certo ha qui l'attacco da un quarto di pollice che ti permetterebbe di metterci un'asta ma a mio parere il peso di questo gopro volta sarebbe eccessivo quindi avresti l'asta che si piega molto potrebbe essere anche parecchio pericolosa potrebbe anche rompersi secondo me se non è un'asta particolarmente rigida altra cosa che avrei voluto vedere in modo diverso è questo cavetto che collega il power bank al logo pro ad altri accessori avrei voluto un cavetto che si sganza anche dal lato power bank ma forse è una scelta voluta per garantire l'impermeabilità altrimenti sai se mettono un cavetto sostituibile ci sarebbe stato qualcuno che va a utilizzare un cavetto differente non sigillato con le gomme eccetera magari comprometteva l'impermeabilità appunto del sistema rendendolo pericoloso nell'utilizzo in condizioni atmosferiche avverse ma adesso è arrivato il momento di fare due conti e andiamo a vedere un po i prezzi del gopro volta rispetto agli altri accessori e capiamo se dal punto di vista economico può avere un senso prendo in mano una tabella che mi sono fatto altrimenti non mi ricordo allora il gopro volta come ti dicevo costa 130 euro se non hai un abbonamento gopro plus altrimenti ti costa 90 euro perché puoi sfruttare lo sconto e va a sostituire in sostanza l'impugnatura 3 way 2.0 che costa 70 euro prezzo pieno 49 se hai il gopro plus ti va a sostituire il grande per la questione dell'attacco treppiede che ci sta qui dietro e anche qui costo 60 euro prezzo pieno 30 se hai il gopro plus va a sostituire il del remote il telecomando ho fatto un video anche su quel su quell'accessorio che costa 90 euro prezzo pieno 63 se hai il gopro plus va a sostituire l'autonomia data dalle batterie aggiuntive che dovresti andare ad acquistare io considero le enduro perché sono quelle che performano meglio sulla gopro i ro10 anche in condizioni di temperature un po più basse ecco che allora ci servirebbero due batterie aggiuntive oltre a quella già presente nel kit quindi 50 euro per due batterie aggiuntive enduro o 40 se hai il gopro plus oppure potresti prendere un powerbank su amazon eccetera da 5.000 mAh più lo sportellino ermetico si va a spendere in tutto tra i 30 35 euro totale finale avremo 270 euro se acquisti tutto senza avere degli sconti o 182 euro se hai il gopro plus fatti questi due conti pare abbastanza chiaro che vince il prezzo del gopro volta con i suoi 130 euro anche di prezzo pieno 90 gopro plus però tu potresti avanzarmi una osservazione ovvero che non ti servono tutti gli accessori ad esempio l'el grande non è che ti serve perché puoi sfruttare l'attacco da un quarto di pollice quindi ok sono d'accordo con te ma anche andando ad eliminare una parte di accessori che magari non ti servono alla fine vai a spendere gli stessi identici soldi per il gopro volta in pratica gli accessori che io qui dietro non tutti nemmeno tutti beh mi vanno a costare quanto il gopro volta quindi da questo punto di vista vince ancora e questa è forse la cosa più interessante il kit completo gopro volta è quello che dal punto di vista economico è più interessante e ti dà dei vantaggi maggiori altre osservazioni che puoi farmi riguardo gopro volta gli altri accessori gopro è il fatto che non è che ti servono sempre tutti gli accessori non ti serve sempre il telecomando il treppiede power bank eccetera quindi magari è più comodo e pesa meno girare con il singolo accessorio che ti serve per un dato utilizzo vero ma è anche vero che questo kit gopro volta pesa veramente poco ed è veramente compatto il fatto che hanno integrato anche il telecomando all'interno dell'impugnatura hanno risparmiato spazio hanno ottimizzato lo spazio quindi anche da questo punto di vista non è proprio vera questa cosa perché non vai a migliorare le condizioni di peso o comodità utilizzando un singolo accessorio rispetto all'avere tutto il kit gopro volta altra osservazione che mi è stata fatta sul fatto che con il gopro volta dovresti ogni volta smontare tutto per poter cambiare fare eccetera in realtà non è vero perché la gopro si attacca normalmente come qualsiasi altro accessorio ed il power bank ha questo cavetto che puoi facilmente sganciare e riagganciare quando hai bisogno con il suo sportellino ovviamente se non vai a utilizzare il media mode se utilizzi il media mode si attacca questo cavo di alimentazione direttamente nel media mode e non ci sono problemi anche lì è impermeabilizzato se dovessi consigliare questo prodotto a qualcuno sicuramente sarebbe una persona che utilizza la gopro come blog cam in questo senso da il cento per cento delle sue potenzialità è un supporto portatile comodo ai comandi alla mano hai un'autonomia praticamente triplicata e puoi anche alimentare eventualmente altri accessori come smartphone eccetera se ne hai la necessità e puoi comandare a distanza la gopro nei casi in cui vuoi riprenderti da lontano non andrei a consigliare invece il gopro volta chi fa un utilizzo delle gopro come action cam pure in quel senso no perché comunque il gopro volta nonostante sia piuttosto leggero ha comunque un peso e quindi magari sarebbe più logico utilizzare in quei contesti direttamente lo shorty certo è l'autonomia delle batterie che dovrai cambiare di tanto in tanto ma non è un grande problema ed occupa anche meno spazio all'interno di un marsupio o zaino quindi fa per te questo prodotto se sei una persona che utilizza la gopro principalmente per documentare quello che gli capita i giri che fa i trekking eccetera sì direi di sì perché con questo accessorio in un unico accessorio ti trovi una buona impugnatura comoda non eccessivamente pesante tanti bei attacchi per piazzarla dove vuoi un treppiede fatto bene e con un peso sulla parte inferiore che lo rende estremamente stabile e praticamente insensibile alle condizioni di vento ti trovi un telecomando che ti permette di gestire la gopro con un dito solo o gestirla da distante e un power bank che ne triplica praticamente l'autonomia e questa è una bella cosa perché quando fai delle uscite lunghe o di più giorni questo può essere il tuo salvavita perché non devi girare con tante batterie con la garanzia di un power bank affidabile e siamo arrivati alla fine anche di questo video spero ti sia piaciuto fammelo sapere mettendo un like e soprattutto andando qui sotto nei commenti e lasciandomi un feedback dimmi un po cosa ne pensi se l'hai già preso se ti è venuta voglia di prenderlo se lo stai valutando a me non resta che ringraziarti di avermi seguito fino a questo punto come sempre ti ricordo che se vuoi puoi sostenere il mio progetto iscrivendoti al canale un click sulla campanellina noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da adesso ciao